Vigilia pasquale sul campo da calcio per le ragazze del Verona che questo sabato per l'undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A saranno impegnate nella bassa bergamasca contro l'ostico mozzanica. Le quotazioni delle gialloblu sono uscite decisamente in rialzo dopo la goleada inflitta sabato scorso al malcapitato Perugia. Abbiamo ritrovato soprattutto Melania, ma abbiamo ritrovato anche la condizione fisica generale della squadra e direi che questo è importante e ci fa ben sperare anche per la partita di sabato. Siamo in crescita, vediamo se riusciamo a confermare questo trend. Con il rientro delle big a lungo infortunate, in primis Capitan Gabbiadini, autrice di una tripletta, Verona torna ad essere compagine capace di qualsiasi impresa e si comprende pienamente solamente adesso quanto abbiano pesato le assenze in una stagione tribolata. Gli obiettivi più importanti sono sfuggiti, ma le gialloblu potranno decidere le sorti del tricolore ospitando la Torres alla penultima giornata e soprattutto puntare alla Coppa Italia, competizione conquistata l'ultima volta nel 2009. Mister Longega per ora si concentra sull'obiettivo Mozzanica. Con Mozzanica sono sempre state partite difficili, sono sempre state partite equilibrate. Anche queste due partite che abbiamo fatto in stagione, sia quelle in Coppa Italia che in campionato, sono state partite veramente molto difficili e combattute. è una squadra che ha un bel gioco, è una squadra che si informa, ti dà del filo da torcere.